Benvenuti di nuovo nel mio canale, vi è piaciuto il video precedente? Adesso siamo qui in un'altra sessione di ASMR, adesso farò dei suoni per aiutarvi nel vostro sonno ed agevolare il vostro relax, inizierò con dei suoni fatti con un libro e poi andrò avanti con l'ASMR tapping. Iniziamo. Per me è molto rilassante. Questi suoni così leggeri sono morto. Sono molto rilassanti. Mi dico la verità. Questo libro ancora non ho letto, però mi piacerebbe leggerlo. Non vi sembra il rumore della pioggia? Quanto ci si sente in uno stato di comfort con il rumore della pioggia? No. 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 No! Ma adesso, cambiamo oggetto per un rumore leggermente più profondo. profondo, ma torneremo nel libro. Spero di farlo cadere a terra. 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 Senti. Spero di farlo cadere a terra. 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 Credo che sia quasi arrivato il momento di salutarci, ma voi non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci rivediamo presto ad un'altra sessione di ASMR, spero col microfono. Buonanotte e rilassatevi tanto.